Pizzeria Mangia Mangia, il nuovo modo di mangiare la pizza In via Torino 2, a Roletto, in zona commerciale Dalle 19 alle 24, degustazione pizza no stop Con bevanda inclusa a 13 euro Menù bimbo a 6,50 euro E servizio pizza da asporto Pizzeria Mangia Mangia, in via Torino 2, a Roletto Perché da noi è tutto un Mangia Mangia Per info e prenotazioni 331 474 1962